Il coraggio Non sai mai cosa puoi trovare là sopra La lontananza Sono molti sacrifici da affrontare e personalmente sento spesso la mancanza della mia famiglia La fatica Lavorare per 6-7 ore continue in uno stesso locale con temperature elevate è una fatica non trasforabile L'impegno 5 metri avanti In una giornata di 24 ore dormo due ore e mezza La disciplina Daersi con scarsa cura Contravenendo la norma sulla dignità e il decoro del militare Decidevo con giornale di consegna Il rispetto Questo è quello che si è Le migliacchi Sono stati colti in flagrante alcuni di loro a copiare un test La volontà La volontà di arrivare alla missione La volontà di arrivare all'obiettivo La tenacia La stima Non pensate che quando voi lavorate sotto coperta eccetera non sia valutato, non sia apprezzato la vita sopra L'orgoglio Io vorrei che gli uomini e le donne della marina fossero orgogliosi di me come io lo sarò di loro L'amicizia Voi siete arrivati come singoli individui e grazie a questo spirito di corpo, a questo lavoro continuo ne uscirete come una collettività Lavorare in team, lavorare in sinergia, gomito a gomito l'un con l'altro è diciamo una carta vicenda L'amore Questa forza armata è come una grande ed unica famiglia Un viaggio affascinante alla scoperta di una forza armata che con i propri marinari, con le loro storie e le loro capacità ha sempre rappresentato nel mondo l'orgoglio del nostro paese e della sua bandiera Noi siamo cucigliere, il nostro lavoro, siamo pronti a tutto, siamo preparati Un'esperienza unica e coinvolgente che ci permetterà di entrare in profondità nel quotidiano di uomini che hanno deciso di fare del mare il proprio mondo e della difesa della nazione la propria ragione di vita Il nostro sforzo è quello di separare la minaccia dai minaccianti Un percorso emozionante attraverso le imprese, le fatiche quotidiane, le difficoltà, gli onori e i successi di un organismo antico e plurioso, la Marina Militare Italiana Mi ha concesso la possibilità di fare esperienze incredibili, viaggio all'insegna del dovere ma anche dello spirito di libertà Macchina ferma, barra al centro